Tutto pronto per la quarta edizione dello Sport & Fitness Festival che da Piazza Sirena a Piazza della Stazione passando per Viale Nettuno e Lungomare animerà Francavilla con la più grande palestra a cielo aperto del centro-sud Italia. Dal 26 al 28 giugno prossimi ci saranno tre giorni di sport ed esibizioni tra wellness, giochi, divertimento e tante manifestazioni collaterali. Quella 2015 è poi un'edizione speciale dedicata all'Expo e al benessere dove l'attività del fisico diventa nutrimento per la vita. Ci saranno alcune novità rispetto agli anni precedenti, ci sarà una prima gara podistica che convolgerà circa 200 persone, già sappiamo dal numero degli iscritti. Tornerà la nuota lunga, una gara da un chilometro che andrà dalla Sirena alla stazione, poi ci sarà un campionato regionale di pugilato insieme a tutte le altre attività. Ci sarà il primo torneo di giochi elettronici competitivi, il gioco elettronico competitivo è da poco diventato uno sport e per due giorni, sabato e domenica, ci sarà questo primo torneo, tutto interamente italiano e poi ci sarà anche come testimonia l'analisa Minetti che aprirà l'evento con una lezione di spinning. Diversi sono gli eventi principali del festival, si va dall'area cycling con pump trick, evoluzioni in bici, bike trial ed escursioni guidate in bike. Dall'alba sul pontile a mare fino a sera nelle piazze principali ci saranno poi lezioni di yoga, zumba, rebound, break dance, fit and box, arrampicata, scherma e arti marziali. Lo sport è volano del turismo, noi la pensiamo in questo modo e quindi cerchiamo di creare eventi di questo tipo anche per far venire gente a Francavilla.